Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Dangerisk Oggi finalmente possiamo parlare del mistero che avvolgeva l'annuncio di Battlestate Games per Escape from Tarkov Perché finalmente a questo fantastico fest hanno rivelato delle novità Che alcuni hanno apprezzato, altri di meno Ma facciamo un'analisi di quello che è il video e poi traiamo le nostre conclusioni Prima di iniziare ovviamente vi invito come al solito iscrivetevi al canale e attivate la campanella se ancora non l'avete fatto Così da non perdervi i prossimi caricamenti Se invece volete seguirmi live su Twitch mi trovate all'indirizzo twitch.tv slash dangerous Che è lì tutta la mia programmazione Ora iniziamo Battlestate Games dopo gli annunci insieme a Nvidia per l'aggiunta appunto di Nvidia Reflex Che ancora ricordiamo non essere attivo, vediamo quando lo attiveranno Ha finalmente mostrato qualcosina di nuovo forse Perché ha mostrato diciamo un nuovo ma l'ennesimo video relativo a Street of Tarkov E con esso alcune piccole potenziali chicche che dobbiamo vedere se riusciranno ad arrivare sane e salve all'uscita della patch O riscontreranno problemi e quindi verranno nuovamente posticipate Allora quello che salta subitissimo all'occhio sono delle cose relative a la fisica, le esplosioni e l'elefante nella stanza Cioè BTR sia mai che per sbaglio venisse chiamato carro Non fate mai sto errore ragazzi, non fatelo Un BTR 60 probabilmente Non chiamatelo mai carro, ok? Che cosa succede? Sono già partite le speculazioni Ma partendo dall'inizio, inizio, inizio del trailer Quello che mi è piaciuto molto è stato l'intro della mappa Cioè questa sorta di telecamera che parte dall'alto e va a ficcarsi diciamo nella testa del player Mi piacerebbe questa come nuova modalità di ingresso nella mappa Una sorta di panoramica per iniziare il gioco Non abbiamo diciamo modifiche rilevanti nel punto di vista dell'equipaggiamento dei player, delle armi eccetera Non abbiamo praticamente nessuna novità L'unica cosa e qui me lo confermerete voi Io non ho mai visto quell'ottica che vediamo L'ho vista in altri giochi ma non su Tarkov O forse sono io a non averla mai acquistata Però non ricordo di aver visto quell'ottica là Però vabbè, a parte questo All'interno del video vediamo un altro piccolo spaccato di quello che è il quartiere A quanto pare residenziale o comunque un quartiere un attimino un po' più alto locato Cosiddetto Concordia, il quartiere Concordia E gli scontri che si svolgono all'interno di un'area fatta di corridoi Comunque abbastanza claustrofobica Intervallata a scontri all'aperto Quindi in mezzo ai giardini, davanti ai palazzi eccetera Fornendo così una sorta di diversificazione molto intensa anche degli ambienti di gioco Cioè all'interno di questa mappa passeremo tranquillamente tra ambienti claustrofobici E ambienti ad ampio respiro in pochissimo tempo Basterà infilarsi appunto in una palazzina per cambiare completamente l'approccio al gioco Andare nei sotterranei per avere non so quei flashback da interchange che tanto ci piace Comunque quello che poi salta all'occhio Ad un certo punto iniziamo a vedere che la mappa subisce delle modifiche Abbiamo un'esplosione dovuta dal lancio granate su una parete Cosa che potrebbe essere tranquillamente un quick time event Che però va a far spostare dei libri Come ad esempio vediamo il monitor di un computer che viene colpito e casca Ora queste cose in passato le abbiamo addirittura viste nel trailer di presentazione del 2016 Quindi bisogna vedere se saranno dei piccolissimi oggetti a subire delle modifiche della fisica Quindi a non pesare più di tanto addosso ai pc delle persone O se questo fa parte di quello che è l'overall della fisica delle ragdoll Che appunto già Battlesita aveva annunciato in passato Dubito potrà andare a inficiare la fisica intera della mappa Ecco insomma non aspettatevi Battlefield da questo punto di vista Ma magari qualche piccolo oggetto verrà spostato per regalare quell'immersività Un pochino più profonda del gioco che oggigiorno non abbiamo Perché già abbiamo qualsiasi cosa sullo schermo praticamente statica Ora la fisica dove ce l'abbiamo principalmente nelle luci La vediamo in factory quando cascano le luci in customs Insomma piccole cose che comunque rispondono più a degli eventi prefissati della serie Se accade un'esplosione fai cascare la luce Ecco non vorrei che fosse così anche per i libri e il resto Basandosi semplicemente su un percorso predeterminato Non lo posso sapere, non lo possiamo sapere Lo scopriremo solo vivendo L'altra cosa che salta all'occhio al momento è la quantità di alcuni bot Che è stata vista ad esempio c'è un momento in cui attraverso la finestra Si vedono un po' di unità che camminano Bisogna vedere se sono magari dei bot Quindi dei riders oppure chissà quale unità Oppure dei players Molti hanno lanciato l'ipotesi che ci possa essere la Black Division Tanto teaserata, presente già in Contract Wars O comunque accennata da Nikita O presente anche nella serie Raid La serie appunto in live action presente su YouTube Così come le toppe che sono state mostrate Ed essere quindi diciamo questa sorta di indizi Che dovrebbero portare alla presenza della Black Division Che la gente diciamo vorrebbe come nuova unità degli scav Un'unità veramente super attrezzata Super organizzata con le ultimissime tecnologie E quindi ancora più paurosa dei rider o dei minion degli scav boss Ora sappiamo che Street of Tarkov dovrebbe avere due boss E uno di questi probabilmente è stato teaserato alla fine Con l'arrivo del BTR Ricordo ragazzi non dite mai Carro armato la gente sbrocca BTR Che mostra l'arrivo appunto di questo BTR Con conseguente discesa di certe unità dal veicolo Non sappiamo E lì la gente che è impazzita Oh mio Dio si potrà guidare Non si potrà guidare Ma quelli chi sono? Il boss? La Black Division? Ora io potrei cercare di smontare un po' le vostre aspettative Nel senso che il BTR a me sembra tantissimo una cosa Come l'arrivo del treno su reserve Quindi qualcosa di palesemente preimpostato Ricordiamoci una roba ragazzi Su Street of Tarkov ci sarà anche un'estrazione attraverso un elicottero È stato mostrato anche in passato durante delle live Questo modello di un elicottero che dovrebbe atterrare Quindi a me sa tantissimo di una cosa preimpostata Che arriva, si ferma e sarà un oggetto poi inamovibile Insomma farà parte poi della mappa Alcune cose che mi domando Ma se utilizzassi il lanciagranate su quelle unità Poco prima che scendano dal carro? Io faccio un overkill? Non lo so Il fatto è che non vorrei che sia proprio un'animazione E quindi le unità sono immortali Finché non si ferma il carro e scendono dal carro O non lo so Comunque non mi ha entusiasmato come ha entusiasmato tante altre persone Mi è sembrata un po' una pretesa per far calmare Lo spirito di rivolta delle persone Davanti all'ennesimo trailer di Street of Tarkov O meglio di una mappa che non giocheremo ancora per tanto tempo Probabilmente fino al 2022 Personalmente, e ora parte il mio parere personale Non è una cosa che dovete provare o sentire anche voi Quindi ripeto, personalmente questo trailer Per me è stato molto deludente Non c'è niente di nuovo Non c'è quell'iniezione di speranza per il pubblico Non c'è un passo avanti dal punto di vista della tecnologia Non c'è una dichiarazione di intenti Qualche meccanica nuova Qualcosa che mi può far ben sperare Per dire Ok, vale la pena l'attesa L'attesa può valere nella pena in quale ottica? Sì, aspettiamo tutti in Street of Tarkov Ma hanno già dichiarato che la mappa non la vedremo per tanto tempo Quindi non abbiamo qualcosa per cui dire Vale la pena ancora giocare Perché ho quell'entusiasmo tale Da farmi transitare poi in qualcosa di effettivamente nuovo Quel nuovo piano di azione che dovrebbe essere Tarkov Io in questo video ho visto nuovamente tanta fuffa E probabilmente ho paura di sentire Nikita dire nuovamente cose come Non siamo riusciti a metterle qua Vedremo poi Mi auguro solo che tutto questo porti veramente in una buona direzione Ma questo video a me non ha soddisfatto per niente le aspettative Soprattutto dopo gli annunci un po' sospettosi Che facevano creare e generare questa sorta di hype Non lo so ragazzi Io sono ancora molto molto titubante Fatemi sapere la vostra però Voglio sapere qual è stata la vostra idea Quali sono state le vostre sensazioni dopo aver visto questo trailer Se hanno soddisfatto le vostre aspettative 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 O meno Fatemelo sapere qua sotto nei commenti ragazzi Grazie ancora del vostro tempo Come al solito vi invito a iscrivervi al canale Attivare la campanella se ancora non l'avete fatto Se volete supportarmi direttamente Trovate tutto qua sotto nella descrizione Grazie ancora del vostro tempo signori E noi ci vediamo sul campo Grazie ancora del vostro tempo